A Cremona va il primato di prima provincia lombarda per numero di studenti stranieri iscritti nelle scuole, il 19,3% per l'esattezza. Dopo di noi Mantova con il 19,1%, Lodi con il 18,5%, Milano e Brescia al 18,2%. I dati sono quelli del MIUR relativi all'anno scolastico 2020-2021. La provincia di Cremona detiene un primato relativamente al numero di studenti stranieri, spesso nati in Italia, iscritti nelle nostre scuole. Per quanto tiene l'iceo Manin, noi abbiamo molti alunni stranieri, anche se nati nel nostro paese, sono ragazzi che sono ben inseriti nelle classi, nella comunità scolastica, che tengono molto a raggiungere i propri obiettivi e che si preparano in maniera molto meritevole per realizzare quel progetto di vita o professionale che molto spesso i loro genitori, quando sono arrivati in Italia, non hanno avuto la possibilità di concretizzare. Guardando i dati nazionali, gli studenti di origine straniera si concentrano soprattutto al nord per il 65,3%, poi al centro per un 22,2% e infine al sud 12,5%. Guardando la classifica regionale, in Emilia-Romagna gli studenti con cittadinanza non italiana sono il 17,1%, dopo ci sono la Lombardia con il 16%, al terzo posto la Toscana 14,5%. Cremona è la prima provincia in Lombardia, ma anche la quarta in Italia, dopo Prato con il 28%, Piacenza con il 23,8% e Parma al 19,7%.